Sembra farsi sempre più concreta la possibilità di uno sconfinamento in Siria nella lotta ai jihadisti. Gli Stati Uniti diffondono altri video di raid aereo e contropostazioni dei fondamentalisti vicino alla diga di Mosul in Iraq e fanno sapere di stare valutando diverse opzioni come spiega il vice consigliere per la sicurezza nazionale Ben Rhodes. Stiamo prendendo in considerazione quello che sarà necessario per affrontare la minaccia e non saremo vincolati a confini. Abbiamo più volte mostrato che nel caso di una minaccia terroristica agiremo in modo diretto contro quella minaccia se necessario. Dall'8 agosto Washington supporta con attacchi aeree, ormai oltre 90, l'azione dei peshmerga. Le forze kurde ammettono di avere di fronte un compito molto difficile e un avversario in possesso di armi e mezzi più avanzati rispetto ai propri. Le violenze si registrano su più fronti nella provincia settentrionale di Diyala. Una moschea sunnita è stata a teatro di un attentato perpetrato da miliziani sciiti durante la preghiera del venerdì. Sono morte almeno 70 persone.